Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce io sono Alessandro Ghetti, coordinatore di Ambiregionale, ma ho un ruolo anche nell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa, devo ringraziare innanzitutto la Regione Emilia-Romagna che organizza con noi assieme ad Asnacodi, ad Asrecodi e ai Consorzi di Bonifiche della Romagna, al CER, questo convegno che è una co-organizzazione, siccome partiamo in ritardo io faccio solamente questo e passo la parola immediatamente a Stefano Franciac nella sua duplice veste di Presidente del Consorzio di Bonifiche della Romagna ma anche di Presidente del Consorzio di Difesa di Ravenna, nonché Vice Presidente nazionale di Asnacodi, che farà un saluto ma credo non solo quello, anche due considerazioni sulla giornata di oggi, grazie. Andiamo bene così? Oh, adesso si sente. Bene, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per partecipare a questa iniziativa che per noi è molto importante sotto i punti di vista che elencava adesso il Dottor Ghetti. La Romagna è uno dei territori che negli ultimi anni è stato più colpito dalle calamità naturali, specialmente dai danni da gelo e compito di nostro. Uno dei ruoli politici che ci siamo sentiti di dover svolgere come Consorzio di Bonifica della Romagna è proprio quello di riuscire ad intervenire in modo attivo. Intervenire in modo attivo per quale motivo? Siamo la regione che ebbe la felice intuizione di partire con la lotta integrata guidata, siamo una delle regioni più innovative d'Italia, credo che uno degli input che deve venire dal Consorzio di Bonifica e dai Consorzi di Difesa è quello di passare veramente ad una gestione integrata dei danni da calamità naturali. Danni da calamità naturali ricordiamo che non sono solo sicuramente quelli del gelo, ma dopo il Presidente Agabiti farà anche una presentazione su tutto ciò che è accaduto con i danni da cimici asiatiche e quant'altro. noi oggi ci proponiamo di iniziare con un percorso che ci possa vedere veramente in un nuovo solco per la nostra agricoltura. Due numeri sul Consorzio di Bonifica della Romagna, abbiamo più di 500 chilometri di canali ad uso promiscuo quindi che vengono utilizzati e per il deflusso delle acque nei momenti di necessità ma vengono poi invasati per l'irrigazione, abbiamo più di 1000 chilometri di condotte in rigo in pressione e abbiamo una distribuzione su tre province molto importanti. Su questa tematica ci sono anche alcune normative e alcune questioni che vanno un attimo ragionate, forse anche modificate, cioè noi abbiamo dei momenti in cui quando utilizziamo gli impianti antibrina la necessità d'acqua è alta e abbiamo quindi necessità che gli agricoltori iniziano a ragionare per farsi dei piccoli invasi loro per avere un piccolo accumulo d'acqua. Questo è veramente una strategia da mettere in campo. Dico due parole sul Consorzio di Difesa di Ravenna, siamo un consorzio che assicura circa 350 milioni di euro, quello che ci preme oggi è continuare ad essere attrattivi per il mondo delle assicurazioni, abbiamo raggiunto dei grandi obiettivi grazie ad Asnacodi e al lavoro che si è fatto con le associazioni agricole nel fatto di riuscire nella nuova programmazione comunitaria da una parte a fare un prelievo del 3% dal primo pilastro e di continuare ad avere delle importanti risorse sulle misure che saranno di gestione del rischio. Ecco tutto qui io non mi dilungo perché comunque i relatori sono tanti, sono più titolati di me a parlare di questo tema ma credo che la giornata di oggi sia veramente importante per dare il là assieme alla regione Emilia Romagna su una gestione del rischio integrata. Grazie. Grazie Presidente Francia, come avete visto non ha solo fatto un'introduzione o un saluto ma ha già cominciato a entrare nel merito della questione. Do la parola alla dottoressa Felice che rappresenta il servizio competitività della regione Emilia Romagna che farà una relazione sui sistemi di prevenzione e gestione dei rischi del gelo ma so che parlerà anche di alcuni temi più generali legati alla visione che ha l'istituzione della regione Emilia Romagna sul decreto legislativo 102. Giusto? Buongiorno a tutti quanti, non so se riuscite a caricare la presentazione. Io inizio proprio da qui nel far vedere che a fronte di un problema grande, grandissimo ormai per i contorni che sta assumendo delle gelate, noi cerchiamo di mettere in campo in realtà vari strumenti con la consapevolezza che ancora c'è bisogno di fare di più. I cambiamenti climatici purtroppo si stanno facendo sentire, si stanno facendo sentire parecchio. Tutti quanti contribuiscono ai cambiamenti climatici in termini di inquinamento, di comportamenti e quant'altro ma purtroppo chi ne paga maggiormente le conseguenze ormai sono sempre di più gli agricoltori. Gli agricoltori che a causa dei cambiamenti climatici stanno sperimentando fenomeni calamitosi di vario tipo. Tre anni fa abbiamo avuto il problema della cimice che anche esso era un problema legato comunque ai cambiamenti climatici. Da due anni stiamo sperimentando veramente questa criticità delle gelate che sta veramente provocando centinaia di milioni di danni alle culture, mettendo in crisi interi comparti dell'ortofrutta. Noi stiamo cercando di agire quindi su vari fronti, come abbiamo detto, un fronte è quello della prevenzione dove noi stiamo mettendo in campo interventi sia con il PSR ma anche con l'OCM. Con l'OCM e l'ortofrutta in particolare nel programma operativo 2021 sono stati stanziati 300 milioni di euro a fronte di investimenti supportati al 50%. Poi vedremo invece, approfondirò maggiormente, quello che facciamo col PSR perché è la materia di cui mi occupo io direttamente mentre non mi occupo in realtà dell'OCM. Stiamo lavorando sul fronte degli indennizi dove stiamo facendo varie cose. Abbiamo anche riconosciuto alle aziende colpite dalle calamità un accesso al credito prioritario sia l'anno scorso che quest'anno con i programmi operativi che vedono il riconoscimento di contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui di conduzione. E poi c'è tutto un grande fronte, qui oggi abbiamo molti rappresentanti perché vedremo dai numeri che non è possibile inseguire il problema solamente attraverso la prevenzione, gli indennizi o il riconoscimento di crediti ma c'è bisogno veramente di lavorare in maniera veramente molto concreta sul tema proprio della costruzione di un sistema integrato di gestione dei rischi dove ci sono le assicurazioni e qui dopo vedremo quali sono le riflessioni che verranno fatte sulle assicurazioni. C'è bisogno comunque di partire in maniera concreta con tutti quegli altri strumenti di gestione del rischio che sono i fondi mutualistici e gli strumenti di stabilizzazione del reddito e c'è bisogno probabilmente anche di ragionare in un'ottica più integrata di prevenzione proprio con strumenti di adattamento al rischio. Noi abbiamo messo in campo insieme ad altri partner un progetto europeo online che si chiama Adaptation in Agriculture dove cerchiamo di capire veramente quali sono tutte le azioni che possono essere messe in campo anche sul fronte degli investimenti in agricoltura di precisione e quant'altro per cercare di affrontare il tema della prevenzione anche se in maniera più trasversale e integrata al di là di quello che facciamo adesso che sono appunto gli impianti antibrina. Quindi io ribalterei un po' la scaletta che vi ho presentato iniziando proprio a parlarvi degli indennizi che noi regoliamo sulla base del 102 perché da questi primi numeri che io vi presento si capisce immediatamente come gli indennizi siano uno strumento che è utile naturalmente ma che non può assolutamente rappresentare una risposta al problema. Nella prima tabella ci sono le domande che noi abbiamo raccolto istruibili ho scritto istruibili perché sono quelle che rispettano i criteri del 102 quindi la delimitazione è fatta tenendo presente il superamento del 30% di danni e quant'altro. vedete che i contributi che sono stati richiesti solo dalle aziende su cui è possibile fare le istruttorie quindi che non sono il totale delle aziende danneggiate è pari a quasi 170 milioni di euro. a fronte di questi danni che come ho detto non sono neppure la totalità noi abbiamo avuto da parte del fondo di solidarietà un riparto a livello nazionale complessivamente pari a 20 milioni e la regione Emilia Romagna dopo peraltro una forte discussione con le altre due regioni coinvolte perché la prassi era di fare una ripartizione sulla base delle delimitazioni mentre abbiamo preteso questa volta di fare un riparto delle risorse sulla base delle domande presentate e questo ha portato un innalzamento delle risorse poi riconosciute dalla regione Emilia Romagna quindi a fronte di quei 170 milioni di danni noi potremo erogare contributi per 13 milioni quindi io credo che questi dati siano abbastanza indicativi del fatto che dobbiamo mettere sicuramente in campo altri strumenti sempre sul fronte degli indennizi poi abbiamo avuto il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento anche sul 2021 perché poi c'è sempre da ricordare che le gelate sono eventi assicurabili e siamo riusciti ad avere la declaratoria sulle gelate l'anno scorso a causa della pandemia dimostrando che gli agricoltori non si erano potuti recare presso i consorzi, presso i CA per stipulare le assicurazioni e quest'anno abbiamo comunque avuto riconosciuto l'eccezionalità dell'evento ma normalmente le gelate sono eventi assicurabili quindi non sono di default garantiti gli indennizi anche quest'anno ci siamo riusciti abbiamo già fatto la delimitazione è stato già pubblicato il DM quindi è già partita la raccolta delle domande e quindi vi invito a fare attenzione alla scadenza che è per la presentazione delle domande che è il 14 di ottobre quindi le domande per il riconoscimento dei danni dovranno essere presentate entro il 14 di ottobre e comunque potete avere poi notizie dettagliate sulla procedura dentro la pagina che vi ho indicato ci sono alcune buone notizie nel senso che finalmente i 20 milioni sono stati erogati dal Ministero dopo appunto i 20 milioni delle gelate del 2020 sono stati finalmente erogati e quindi noi stiamo completando l'istruttoria delle domande e speriamo davvero di poter erogare quei 13 milioni entro l'anno poi partiremo naturalmente con le istruttorie sulle gelate 2021 anche qui la buona notizia è che con la legge di conversione del decreto legge 73 sono state aumentate le risorse stanziate sul fondo di solidarietà a fronte di queste calamità portandolo da 105 a 160 milioni anche se poi dentro sono stati inseriti altri eventi per esempio la grandine di maggio e giugno quindi è stato aumentato però sono stati anche inseriti degli altri eventi e anche lì stiamo vedendo se c'è la possibilità di delimitare detto questo l'altro fronte su cui siamo intervenuti per dare un po' di sollievo alle aziende colpite dalle calamità è stato anche quello dell'accesso al credito come ho detto prima e riconosciamo priorità massima sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo riconosciuto priorità massima alle aziende colpite dalle gelate l'anno scorso perché il bando attuale è ancora in corso di svolgimento l'anno scorso nel 2020 abbiamo erogato prioritariamente gli interessi sui prezzi di conduzione a 370 aziende che presentavano la priorità 1 cioè la priorità massima quindi pari al 32% del totale e sul breve termine 53% del totale sul medio termine perché sapete che dall'anno scorso abbiamo anche modificato la legge per aumentare per dare la possibilità di erogare contributi anche sui mutui trennali quindi non più sui mutui annuali come era precedentemente quindi questi sono gli altri interventi su cui noi abbiamo fatto alcune cose per dare sollievo alle aziende e poi siamo partiti anche con la prevenzione nell'ambito del programma di sviluppo rurale abbiamo già emanato due bandi il PSR e la focus area P3B sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi il tipo di operazione è la 5104 come ho detto abbiamo già emanato due bandi il bando 2020 che ha prodotto questi risultati quindi a fronte di 4.216.000 euro di risorse stanziate rese disponibili dal bando abbiamo avuto 62 domande presentate 6 poi si sono ritirate quindi abbiamo ammesso tutte le restanti domande quindi 56 domande ammesse e 56 finanziate perché abbiamo finanziato tutta la graduatoria che avevamo definito la spesa ammessa è stata di 3.880.000 euro quindi in realtà il bando non ha la domanda, la richiesta non ha esaurito tutte le risorse che all'epoca erano disponibili e abbiamo concesso contributi per 2.716.000 euro naturalmente i progetti sono in corso di realizzazione e quindi vedremo poi alla fine quali saranno i risultati effettivi di ciò che ha prodotto il primo bando abbiamo poi quindi emanato un secondo bando dove abbiamo introdotto anche alcune novità per cercare di aumentare la risposta in chiave di domanda e vedremo dopo quali sono le novità che abbiamo introdotto qui c'è la delibera con cui abbiamo adottato il bando qui abbiamo aumentato le risorse le risorse sono circa 6 milioni e mezzo i beneficiari sono sempre imprese agricole che intervengono individualmente a tutela del proprio potenziale produttivo frutticolo e per quanto riguarda la tempistica anche qui vi segnalo di prendere ben nota di quali sono i tempi i termini per la presentazione delle domande le domande sono state aperte il 30 di luglio e potranno essere presentate fino al 19 di novembre 2021 alle ore 13 del 19 novembre poi abbiamo lasciato i canonici mi pare 10 giorni che ormai lasciamo su tutti i bandi per rettificare eventuali errori materiali di presentazione della domanda però naturalmente la domanda deve essere quella presentata entro il 19 di novembre poi abbiamo previsto come termine per l'invio delle varie autorizzazioni paesaggistiche, urbanistiche e quant'altro il 25 di gennaio 2022 e usciremo con la graduatoria poi entro il 4 di marzo 2022 quindi queste sono le tempistiche che abbiamo previsto per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità ci sono quelle classiche bisogna essere iscritti alla Camera di Commercio l'anagrafe regionale delle aziende agricole con fascicolo aggiornato e formalmente completo e validato secondo le regole che appunto sono previste dall'anagrafe regionale delle aziende agricole bisogna avere naturalmente una posizione previdenziale regolare cioè bisogna avere un Rundurk regolare ma soprattutto bisogna avere un piano di investimenti che sia coerente con le disposizioni del bando cioè quindi diciamo che il cuore di tutto veramente è il piano di investimenti un piano di investimenti che deve prevedere naturalmente interventi riferiti a impianti frutticoli esistenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e abbiamo detto risultanti dal piano culturale 2021 quello validato eccetera deve essere avviato dopo la presentazione della domanda di sostegno come normalmente praticamente in tutti i bandi e deve avere una durata massima di 12 mesi le spese ammissibili sono l'acquisto e la messa in opera di ventilatori o bruciatori fissi o mobili con funzione antibrina che era quello che era già poi previsto nel primo bando ecco naturalmente qui questi impianti devono poi essere in regola con tutta la normativa che riguarda la qualità le disposizioni in termini di qualità dell'aria quindi non sono ammessi i bruciatori a pellet perché non sono previsti dalla disciplina che regola appunto la qualità dell'aria e quant'altro quello che è stato inserito quest'anno è l'adeguamento degli impianti rigui esistenti al momento della domanda mediante appunto l'inserimento di linee di aduzione e di ugelli o di erogatori dedicati a espletare la sola funzione antibrina e poi naturalmente ci sono le spese tecniche generali come onorari di professionisti e consulenti in misura non superiore al 3% dell'importo ammissibile per quanto riguarda le linee di aduzione questi potranno essere o riferiti a impianti sopra chioma oppure a impianti sotto chioma con microirrogatori dinamici cosiddetti splinker poi io non sono un tecnico e quindi magari poi vi rimanderò al responsabile di procedimento che è il dottor Fabrizio Roffi che essendo anche un tecnico vi sarà molto poi più preciso se avrete bisogno di chiarimenti successivamente su quali sono esattamente tutte le tipologie di impianti che sono ammissibili l'impianto potrà altresì ricomprendere una centralina per il controllo automatico dell'impianto in relazione alle condizioni meteorologiche e anche stazioni di pompaggio finalizzati naturalmente esclusivamente all'alimentazione delle linee antibrina quindi non agli impianti di erogazione in generale ecco qui poi c'è questo punto che so che è stato molto discusso su cui però noi non possiamo fare a meno di prevedere di prevederlo perché noi non possiamo andare a finanziare degli investimenti sapendo già che questi non potranno funzionare c'è la necessità di avere un'attestazione del consorzio o dell'ente che concede l'acqua circa disponibilità della risorsa idrica in un periodo in cui normalmente questa risorsa idrica forse non è prevista perché il problema delle gelate è che ormai le gelate non sono più gelate tardive cioè gelate che avvengono in periodi in cui sono già partiti i piani di cessione dell'acqua da parte dei consorsi abbiamo purtroppo delle gelate che appunto con i cambiamenti climatici avvengono in periodi anticipati e quindi a volte abbiamo questo disallineamento che può effettivamente costituire un problema la coesistenza perché voi sapete che nel PSR abbiamo come dire da rispettare anche i vincoli di impegno cioè gli impegni di durata degli investimenti la coesistenza di queste due linee cioè di un impianto in riguo preesistente e delle linee con la funzione antibrina dovranno essere mantenute per tutto per tutta la durata del periodo di impegno adesso noi abbiamo avuto sempre una dicotomia tra la legge 15 e i regolamenti PSR dove alcuni impegni erano di 10 anni alcuni erano di 5 anni in realtà adesso con la revisione della legge 15 che è imminente la durata dell'impegno sarà uniformata tutto il regolamento e quindi la durata dell'impegno sarà sempre di 5 anni quindi 5 anni dove dovrà essere mantenuta questa coesistenza tra impianti rigui e linee di antibrina ecco per quanto riguarda le spese non ammissibili investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a salvaguarda di potenziale produttivo delle aziende frutticole dalle gelate primaverili l'IVA le prestazioni aziendali volontarie di manodopera le spese sostenute con modalità di pagamento non conformi ma questo come dire sono dei classici dei bandi del PSR cioè non si può pagare con assegno in contanti ci vuole sempre un bonifico non sono ammissibili impianti per le serre le serre in generale le manutenzioni ordinari di beni mobili e immobili l'acquisto di materiale usato investimenti che non rispettino la normativa vigente questo qui in realtà l'abbiamo già scritto è stato ripetuto mi scuso e la dotazione con durata tecnica inferiore ai 5 anni per quello che abbiamo detto prima le aliquote di sostegno sono il 70% del costo dell'investimento ammissibile quindi 70% di aiuto la spesa massima del programma di investimenti è 200.000 euro mentre e qui c'è la possibilità di presentare anche dei progetti comunque per importi superiori che però poi verranno ricondotti ai fini del calcolo del contributo alla spesa ammissibile ogni impresa può presentare una sola domanda sul bando in corso la spesa minima invece è di 5.000 euro poi qui l'ho scritto perché purtroppo è una problematica su cui stiamo avendo veramente grandi problemi c'è tutto il problema dell'accumulabilità degli aiuti con quello che attualmente è il credito d'imposta soprattutto sugli impianti tecnologici purtroppo ci è arrivato tra capecollo voi lo sapete meglio di me un parere della commissione europea che ancorché le leggi nazionali e anche come dire quello che noi avremmo potuto immaginare normalmente prevedeva l'accumulabilità fino al 100% della spesa effettuata in realtà ci ha detto che noi ai fini dei programmi di sviluppo rurali possiamo accumulare il credito d'imposta con i contributi del PSR ma lo possiamo fare solo entro il limite massimo dell'intensità di aiuto concessa dai regolamenti europei questo su altri bandi ci ha fatto praticamente saltare l'accumulabilità nel senso che abbiamo alcuni bandi che sono già al massimo dell'intensità d'aiuto su questo bando l'intensità massima d'aiuto prevista dai regolamenti è l'80% e quindi in realtà qui essendo che l'aliquota di sostegno che noi riconosciamo è il 70% abbiamo un margine di cumulabilità del 10% questo va detto perché purtroppo come ho detto abbiamo dovuto modificare anche la nostra impostazione sul tema della cumulabilità degli aiuti e in questo momento ci stiamo attenendo strettamente a questo parere della commissione europea che è un parere e che purtroppo si inserisce in questa in questa materia pur riconoscendo che il credito d'imposta non è un aiuto di stato ma sostiene che riducendo comunque l'onere a carico del beneficiario comunque va tenuto in considerazione quindi su questo purtroppo mi sento di dovervi fare mettere un punto di attenzione perché purtroppo abbiamo questo problema i criteri di priorità che verranno utilizzati per la predisposizione della graduatoria sperando che questa volta si riesca a saturare le risorse a disposizione sono l'entità del potenziale agricolo a rischio che è misurato in termini di rapporto tra la superficie a frutteto oggetto dell'investimento che viene presentato sulla superficie aziendale a frutteto totale così come risultante dal piano culturale caricato sul fascicolo agenziale come abbiamo già detto prima quindi se la superficie che è coinvolta dal progetto è superiore all'80% del superiore uguale all'80% della superficie totale frutticola i punti riconosciuti saranno 9 se la superficie è tra il 40 e l'80 i punti riconosciuti saranno 6 se la superficie è inferiore al 40% i punti riconosciuti saranno 3 comunque il punteggio minimo di accesso sarà di 4 punti quindi se la superficie è inferiore al 40% bisognerà comunque poter sommare altri punti poi ci sono le aziende di giovani che hanno avuto concesso il premio di primo insediamento già concesso e che abbiano già concluso il piano di sviluppo aziendale e che rispettano ancora i criteri per essere considerati i giovani agricoltori e quindi siano ancora inferiori a 41 anni d'età ed insegnati da almeno 5 anni nel momento di presentazione della domanda di sostegno qui vengono riconosciuti tre punti e poi abbiamo la suscettibilità delle specie vegetali alle gelate primaverili e quindi qui se c'è una suscettibilità alta 10 punti come l'actinidia l'albicocco il ciliegio i cachi il pesco il susino se c'è una suscettibilità media 5 punti e una suscettibilità bassa 1 punto ecco qualora poi l'intervento riguardi specie diverse che abbiano suscettibilità differenti il punteggio verrà determinato proporzionalmente ecco io direi che come dire mi fermo qui non direi che non aggiungo altro per ora e comunque sono qui per rispondere a tutte le domande che mi vorrete porre bene molte grazie dottoressa brevissima considerazione come vedete già la regione immagina un'integrazione di strumenti si è parlato di 102 ma ovviamente se uno guarda tra l'altro per una una calamità che avviene in deroga all'assicurazione per l'anno 2020 poi per il 2021 però con una possibilità di indennizzo che è grosso neanche il 10% di quello che è le domande presentate quindi non è neanche la totalità e quindi c'è anche la necessità di sperimentare nuove funzioni attraverso i PSR per la prevenzione che è stata la seconda parte dell'intervento della dottoressa Felice e per approfondire questo aspetto che peraltro si può vedere all'acqua campus chiamo il dottor Stefano Aconelli del CER difesa attiva linee guide per l'irrigazione antibrina con le gelate tardive purtroppo devo chiedere a tutti di essere sintetici perché comincia a esserci qualche problema di tempo grazie buongiorno a tutti mi sentite bene se fate partire la presentazione purtroppo vedo mi dispiace che rivedere di nuovo sale piene perché noi avevamo già studiato noi come canale miano romagnolo ovviamente siamo insieme con gli altri consorsi di bonifica quelli che portiamo l'acqua per l'irrigazione estiva già 20 anni fa avevamo avuto una serie di annate consecutive 95 97 98 con gelate intense anche 8-9 gradi sotto zero e facemmo allora un grande progetto di ricerca dal 99 al 2003 con il servizio regionale dell'ARPA il servizio meteorologico noi come canale miliano romagnolo come ente di ricerca che lavora da sempre con la regione miliano romagna il CNR le diverse università per mettere appunto i sistemi di difesa attiva con l'irrigazione e purtroppo anche allora avevamo sale piene perché facciamo poi attività di divulgazione per vedere come impiegare al meglio gli impianti di irrigazione antibrina le gelate in Emilia Romagna in particolare sono sostanzialmente per il raggiamento e l'avrete viste tutte purtroppo in questi ultimi anni quindi calma di vento bassa umidità cielo sereno di notte viene una bella stellata l'agricoltore quando sono le 11 che vede che la temperatura è intorno a 1-2 gradi deve cominciare a preoccuparsi perché ogni ora una perdita di un grado circa verso le 3-4 del mattino ci troviamo purtroppo sotto zero a quel punto ecco vedete quello che succede in una notte di questo tipo abbiamo la cosiddetta inversione termica è il terreno che tende a perdere calore e negli strati più bassi dell'atmosfera noi abbiamo vedete fino a un metro di altezza temperature questa qui è una notte del 1995 fino a un metro temperature anche di 4-5 gradi sotto zero poi mano a mano l'inversione tende a calare a 3-4 metri di altezza la temperatura sale il problema appunto è difendere le colture arboree soprattutto negli strati più bassi tra 1-2 metri il concetto di irrigazione tebrina è molto semplice se noi in condizioni di temperature sotto lo zero buttiamo dell'acqua nel sistema ogni grammo d'acqua che ghiaccia cede calore cede 80 calorie sfruttiamo questo sistema con gli impianti di irrigazione nel caso di irrigazione sopra chioma andiamo a bagnare le piante si crea una crosta di ghiaccio sulla vegetazione al di sotto di questa crosta sfruttando questo calore che viene ceduto la temperatura non scende sotto lo zero gradi o prossimi allo zero gradi che sono temperature che le piante possono sopportare anche negli stadi fenologici più delicati nel caso invece e quello lo studiamo e l'abbiamo messo a punto proprio in quegli anni la stessa cosa può essere fatta con gli impianti sotto chioma non bagnando direttamente la vegetazione ma andando a bagnare il prato dell'interfilare che va mantenuto in questo caso inerbito e in questo caso il ghiaccio che si forma va a contrastare quella perita di calore nelle strati si crea un cuscino d'aria calda che contrasta la salita dell'aria fredda verso l'alto il concetto dell'irrigazione sopra chioma questa era già allora una tecnica molto nota e utilizzata dai frutticultori in Trentino Alto Adige dove però le condizioni sono più favorevoli in quel caso o comunque anche nel Piemonte nelle condizioni diciamo pedemontane con terreni che sgrondano facilmente l'acqua con dello scheletro e con ampia disponibilità d'acqua il concetto comunque è che dal momento che io parto cioè arrivo a zero gradi verso mezzanotte comincio a dirigare per tutta la notte io devo continuare a produrre ghiaccio perché se no se mi si ferma l'impianto a metà faccio dei danni ben maggiori che non fare nessuna difesa quindi le regole adesso qui non sto visto che i tempi sono stretti e poi avremo anche modo nel caso lo dico anche qui ad Acqua Campus qui in Fiera ci sono delle aziende che hanno collaborato già all'epoca con noi che espongono materiali quindi se quelli interessati possono poi andare a vedere anche le ultime soluzioni che sono state sviluppate da vent'anni in avanti comunque come dicevamo con gli impianti di irrigazione sopra chioma classici molti sono nei nostri peretti del Ferrarese hanno ancora impianti di questo tipo irrigatori a 16x18 metri con i classici irrigatori pioggialenti a schiaffo l'importante è che abbiano angoli di rotazione molto veloci e garantire la maggiore uniformità di distribuzione e la rapidità di distribuzione dell'acqua il problema è che noi andiamo a distribuire 4-5 mm all'ora che è la poliometria la quantità d'acqua che serve per contrastare il gelo di queste notti e di conseguenza cominciando a lavorare con 4-5 mm a mezzanotte fino alle 8-9 del mattino si vanno a distribuire quantità d'acqua che per i terreni della pianura alle condizioni emiliano-romagnole determino una serie di inconvenienti ecco questo vedete è quello che succede irrigando sopra chioma un frutteto si viene a creare questa la mattina successiva una situazione di questo tipo queste piante completamente ricoperte di ghiaccio è importantissimo verificare chiaramente in quelle notti gli agricoltori stanno in piedi e sono tutta la notte a verificare che tutto funzioni le regole di partenza anche queste qui sono molto importanti quando la temperatura del bulbo bagnato arriva a 0 gradi conviene partire con l'impianto stando attenti all'inizio a non creare dell'umidità che sottrarrebbe invece calore all'ambiente rispetto a creare del ghiaccio che ne produce e poi bisogna andare avanti fino alla mattina successiva quindi quando la temperatura raggiunge 2-3 gradi e c'è un innalzamento rapido della temperatura in modo da essere sicuri che allo scioglimento del ghiaccio noi andiamo a creare un momento in cui viene sottratto calore quindi bisogna seguire il processo tutta la notte questo implica problemi di questo tipo vedete in questa foto un attimidieto dopo una notte di irrigazione antibrina in condizioni di pianura abbiamo ristagni di ciasfessia radicale dopo il problema una delle altre problematiche della frutticoltura emiliano-romagnola in questi anni la moria del pero o la moria del kivi per la sfessia radicale quindi questi sistemi io non li consiglio più di tanti nel bando noi abbiamo collaborato anche proprio con il dottor Roffi e con l'ufficio della dottoressa Felice per fare una sorta di consulenza tecnica sulla base di queste esperienze abbiamo cercato visto che nel frattempo c'è stata una cultura da parte di tutti gli impiantisti hanno messo a punto i vari sistemi di essere il più generici possibili sono rimaste due paroline che dopo poi spiegheremo il perché degli sprinkler come diceva l'autoressa Felice qui abbiamo costi elevati grossi ingenti necessità energetiche perché dobbiamo lavorare a pressioni elevate 3-4 atmosfere e questi problemi poi sul pero sul melo come in alto aria non ci sono problemi sulle drupace per esempio il ghiaccio che si forma potrebbe anche creare rottura delle branche e problemi di altro genere oltre all'impiante pioggia lenta adesso qui semmai faccio scorrere velocemente negli anni ci siano sviluppati sistemi più efficaci con irrigatori mini sprinkler da 3-400 litri ore quindi riducendo portate e pressione di esercizio ma avvicinando gli erogatori 7x7 10x10 al massimo per garantire la stessa copertura di ghiaccio con metodi più efficienti e minore pluviometria quindi minori problemi come si diceva prima stesso discorso adesso non mi dilungo perché i tempi sono stretti si possono fare anche con i micro sprinkler quindi con gli spruzzatori sopra chioma localizzati se abbiamo forme di allevamento in parete o con porti nesti non particolarmente vigorosi quindi la vegetazione è abbastanza contenuta adesso ci sono irrigatori che bagnano pochi un metro soltanto per bagnare la spalliera del frutteto e cercando quindi di dare la minore quantità d'acqua possibile garantendo comunque la stessa copertura e questo è quello che succede vedete in questo grafico il confronto alla riga blu la temperatura a 0 gradi di un irrigatore a pioggia lenta tradizionale con 3 o 4 mm di pluviometria noi possiamo ridurre la quantità d'acqua che mettiamo in gioco sfruttando la localizzazione della copertura e vedete ottenendo gli stessi adesso non ho un puntatore vedete la temperatura sotto a cui va messo delle termocoppie sulla vegetazione la temperatura rimane a 0 gradi mentre la temperatura dell'aria fuori era abbondantemente sotto 0 quindi diciamo con il soprachioma possiamo avere tante soluzioni abbiamo per chi vuole dopo all'acqua campus c'è l'azienda che produce impianti di irrigazione che fa vedere le ultime soluzioni che stanno proponendo tra l'altro adesso stanno consigliando l'utilizzo di quegli irrigatori che sono stati mutuati dai ranger dai pv dalle grandi macchine che garantiscono una buona copertura con bassi pressioni di esercizio e pluviometrie contenute l'abbiamo provato anche a fare turnata ma io non andrei a rischiare nelle condizioni in cui ci sono la grossa novità che studiamo vent'anni fa per evitare diciamo tecniche particolarmente impattanti e ottenere una comunque ugualmente adeguata difesa dalle gelate tardive è quella dell'irrigazione sotto chioma con un certo orgoglio dico che l'abbiamo inventata noi vent'anni fa con il progetto di sgelo finanziato dalla regione Emilia Romagna col gruppo di lavoro e in questo caso è una tecnica molto meno impattante che richiede anche molto meno acqua ed è efficace però peraltro solo nelle gelate per irraggiamento non in caso di gelate per aviezione accompagnate da vento perché in quel caso il calore che noi generiamo viene poi spazzato via dal vento il principio è sempre lo stesso buttiamo l'acqua nell'interfilare se mai va lasciata l'erba alta o anche i residui di potatura visto il periodo della stagione e questo crea un supporto su cui noi facciamo ghiacciare l'acqua e praticamente andiamo a ottenere se vi ricordate il grafico di prima vedete la linea rossa è quello che succederebbe in una normale gelata per irraggiamento temperature vicine al suolo intorno ai 5 gradi in quella notte facendo funzionare l'impianto sotto chioma noi andiamo a creare un cuscino d'aria calda che si genera nello strato basso a prossimità del terreno che va a contrastare la perdita di calore per irraggiamento e raddrizziamo il cosiddetto profilo delle temperature lungo il profilo in altitudine della parete con un guadagno termico anche di 3-4 gradi in prossimità del suolo dove poi ci sono le temperature più basse e i danni maggiori da freddo quindi quindi tenere innervito il frutteto si possono usare impianti micro sprinkler quelli che sono stati appunto indicati quindi spruzzatori sotto chioma ce ne sono di modelli con pluviometrie forme di bagnatura le più svariati e la pluviometria in questo caso è anche molto elevata ma questo tipo di sistema ci consente di lavorare a intermittenza e quindi aumentare a parità d'acqua che io ho per esempio prendo l'acqua da pozzo posso coprire il mio impianto di irrigazione durante l'estate è dimensionato per lavorare a settori quindi irrigare due minuti cioè irrigare diversi etteri della mia azienda a settori un po' alla volta sfruttando questa cosa qui noi possiamo irrigare due minuti il settore 1 dopodiché passo a irrigare una nuova superficie aspettando che l'acqua ghiacci e torno sul mio settore iniziale dopo due turni al massimo tre insomma quindi due minuti di irrigazione e quattro sei minuti di pausa a parità di acqua io riesco a coprire una maggiore superficie della mia azienda e in più la pluviometria risultante l'importante è che al netto dei miei turni non scenda sotto i due millimetri ora due litri per metro quadro ora sono abbiamo visto durante il progetto avevamo coinvolto oltre a tutte le aziende produttrici di impianti irrigui avevamo coinvolto una ventina di aziende di diverse con diverse culture in diverse condizioni fondo valle collina bassa e alta pianura perché ovviamente a volte anche soltanto chiaramente chi ha nel fondo valle sono le condizioni più esposte a rischio perché c'è anche la discesa d'aria fredda dalle pareti della collina più nelle zone più basse sono quelle dove la temperatura dove si ha il maggiore ristagno di aria fredda molte volte anche la pendenza di qualche metro fa sì che nel frutteto abbia zone che sono state colpite e zone invece che si sono riparate quindi due millimetri ora come pluviometria minima si possono fare degli interventi appunto aumentare la nostra superficie facendo l'irrigazione tornata e a questo punto la temperatura di allarme lo facciamo con un bulbo asciutto è importante mettere il sensore abbastanza in basso in modo che ci sono le condizioni più critiche in modo da partire con un certo anticipo e cominciare a fare del ghiaccio prima ancora che andare a rischio la parte alta del frutteto e tutto adesso 20 anni fa vedete che tipo di datalogger venivano usati ancora molto sperimentali adesso ormai gli impianti sono dotati di automazione quindi non ci sono più problemi per quanto riguarda gli allarmi e la partenza l'importante quando si fanno irrigatori il sottochioma come si diceva anche nel bando è stato mantenuto questa cosa vedete qui sono tutta una serie di soluzioni l'importante è tenere gli spruzzatori verticali quindi con pesetto in modo da evitare poi di andare a bagnare le piante ma da fare in modo che il getto vada direttamente solo sul prato ci sono tutta una serie di soluzioni l'ideale dicevo è questo con il pesetto rispetto all'astina perché quando facciamo i due minuti durante le pause e col pesetto mi si svuota il tubino non ci sono rischi di congelamento perché stiamo parlando di 7-8 gradi sotto zero in cui ci muoviamo di conseguenza non abbiamo visto problemi di congelamento con queste soluzioni anche con turni due minuti di irrigazione sei fino anche a dieci minuti di pausa quindi in questo caso l'altro grosso vantaggio è che se durante la notte viene la copertura nuvolosa non c'è più problemi noi possiamo interromperci prima quindi comunque le quantità d'acqua in gioco sono decisamente inferiori e non abbiamo rischi decidi poi qui mi fermo se mai per ulteriori delucidazioni noi abbiamo sul sito questa presentazione la potete trovare sul sito del consorzio CER e poi vi invito tutti noi abbiamo la mostra permanente a Budrio all'acqua campus in collaborazione con tutte quelle aziende che hanno condiviso con noi i risultati della sperimentazione si possono organizzare giornate dimostrative in collaborazione proprio con le stesse aziende che fanno vedere i prodotti i prodotti ultimi che sono adesso in commercio anche per chi dovesse fare la progettazione poi per presentare in tempi utili per il bando le cose direi che questa era appunto la parte sperimentale che facevamo ecco molto importante qui lo dico poi mi taccio se va avanti ecco abbiamo fatto perché gli irrigatori dinamici rispetto agli statici vi faccio vedere questo grafico dove si vede nettamente la temperatura dell'aria è arrivata a 8 gradi sotto zero con lo statico il problema dello statico fa un getto nebulizzato l'importante invece con gli irrigatori dinamici è fare gocce grosse per evitare perché in quelle condizioni di bassa umidità c'è il rischio di evaporazione quindi di sottrare calore quindi assolutamente usare mini sprinkler e non spray questo era risultati del progetto vi lascio perché purtroppo i tempi sono molto stretti grazie Stefano inviterei per un saluto al nostro momento al nostro convegno il presidente della fiera Renzo Piracini che lo voglio ringraziare per l'ospitalità innanzitutto ma anche per l'opportunità che sta dando attraverso Macfrut all'ortofrutto è un settore che Renzo lo conosci benissimo un settore che sai benissimo che sta passando una fase difficile ma siamo anche tutti consapevoli ci siamo confrontati più volte che non serve piangersi addosso ma serve pensare al futuro e serve ad avere delle idee per il futuro noi come Ambi lo sai lo stiamo provando a fare anche attraverso la fiera quindi ti ringraziamo e ti ringrazio per un saluto bene grazie a voi non voglio portare via del tempo al vostro interessante convegno intanto voglio ringraziare Ambi Asre Codi Presidente Acabiti e chiaramente tu Francesco io credo voglio dire solamente alcune cose chiaramente stasera a fine giornata trarremo un po' le conclusioni però chiaramente sentiamo un po' l'umore degli operatori io credo che qualche qualcosa questo McFruit comunque ci insegna quest'anno la prima cosa che si respira e che c'era una gran voglia di ritrovarsi dopo un anno e mezzo che non c'erano solo relazioni virtuali si sentiva il grande bisogno di ritornare ma soprattutto la cosa che ha sorpreso è la grande vivacità e la grande voglia di riscatto proprio perché veniamo da un'annata che per molti aspetti è stata drammatica un'annata comunque un 2020 difficile beh devo dire la verità che forse è nei momenti di difficoltà che si riesce ad esprimere il meglio perché veramente tante imprese diciamo stanno guardando avanti progettano il futuro e mai come ora la situazione è stata in grande evoluzione quindi io credo che il McFruit che è una vetrina di quello che noi stiamo facendo nella filiera di quest'anno ci dimostri che insomma noi non siamo la Spagna oggi dal punto di vista produttivo indubbiamente ha degli elementi di competitività in molte filiere rispetto a noi che sono difficilmente colmabili però se noi mettiamo insieme la filiera come abbiamo fatto quest'anno grazie devo dire ai contributi degli espositori grazie al vostro contributo mettiamo insieme dei contenuti veri io sono convinto che l'Italia non è seconda a nessuno e possiamo ritornare leader a livello europeo perché oggi quello che conta non serve produrre tanto probabilmente serve più impostarsi già per un mercato che è in forte cambiamento e che anche pensa solo al tema che voi trattate al tema della difesa come potremmo pensare di fare investimenti per decine di migliaia di ettari così sperando che non grandini sperando che non geli sperando che non piova quindi siamo veramente alla vigilia anche di una nuova frutticoltura di una nuova come questo non è solo il modo per vendere o per incontrare un cliente o un fornitore ma anche il modo per vedere dove va un settore per capire un imprenditore dove deve investire quindi io vi ringrazio perché devo dire mai come quest'anno c'è stata una qualità dei convegni e delle iniziative che è stata veramente un plus quindi io non posso che ringraziarvi di nuovo e noi rimaniamo a disposizione perché di cose da fare ce ne sono ancora tante e secondo me se ci mettiamo un po' di entusiasmo e un po' di voglia di fare io sono convinto che potremo avere in questo settore ancora delle grandi soddisfazioni noi dalla parte nostra ce la metteremo tutta grazie 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 al presidente della fiera per l'intervento che ha fatto e per tutte le mani le varie mani che ci ha dato durante i tre giorni di fiera proprio nel nel soco della parola integrazione che prima la rappresentante della regione ha sottolineato come elemento fondamentale andiamo a diciamo a coloro che fanno la parte del leone nel tema del contrasto alle calamità naturali cioè al presidente di Asnakodi Albanna Gabiti e al direttore di Asnakodi Berti io lascio a voi l'organizzazione di come interverrete quindi intervenite sempre ovviamente sul tema dell'integrazione degli strumenti per quanto riguarda Asnakodi assicurazione e altri strumenti nel campo delle gelate grazie buongiorno a tutti grazie per la possibilità di intervento presidente vorrei iniziare con seguendo anche l'intervento del presidente della fiera portando i complimenti per come rispetto a un problema che sta impattando sulle produzioni agricole il territorio dell'Emilia Romagna sta dando una risposta abbiamo visto azioni concrete da parte della regione su finanziamenti per realizzare sistemi di difesa attiva e nella logica di trovare un'efficiente soluzione per la protezione delle produzioni agricole è indispensabile un approccio di questo tipo un approccio alla multidisciplinarità dell'acqua un approccio a strumenti che cercano di ridurre il danno ma voglio ritornare a fine intervento su questi concetti gestione del rischio che significa oggi gestione del rischio in Italia 6 miliardi 156 milioni di valori assicurati oltre un miliardo di Emilia Romagna sta sfiorando un miliardo 200 dati del 2021 provvisori quindi siete la regione che più utilizza ve la giocate col Veneto gli strumenti di gestione del rischio strumenti importanti che rappresentano una soluzione per oltre il 20% delle imprese italiane media nazionale nel vostro territorio è superiore si supera il 25% del valore delle produzioni assicurate con la superficie del 10% questo che significa significa che le imprese con importanti dimensioni con importanti valori più strutturate sono le imprese che più utilizzano gli strumenti di gestione del rischio è un dato importante significa che la validità dell'estrumento viene incolta da chi come agricoltore fa effettivamente attività di impresa in maniera maggiore rispetto alla media contribuzione importante quindi 70% l'aliquota massima contribuzione importante significa che l'ente pubblico gioca un ruolo importante nel definire le regole e quindi nel definire il mercato nel momento in cui una parte così importante del costo assicurativo viene regolata dal pubblico il pubblico è il vero attore che gioca in ruolo in questo tipo di attività l'evoluzione della gestione del rischio è stata straordinaria negli ultimi 20 anni vi ricorderete che fino agli anni 2000 la gestione del rischio significava polizza grandine dal 2003 si è iniziato ad allargare le avversità che sono copribili con la gestione del rischio si è iniziato a coinvolgere negli obiettivi della comunità europea l'attività della gestione del rischio ad ottenere dei finanziamenti comunitari e non più nazionali ed oggi siamo diventati una delle misure di priorità della comunità europea quindi questo significa certezza di finanziamento lo diventerà lo sta già lo è già nelle bosse di documentazione della nuova PAC fino al 2027 quindi siamo sicuri in una continuità di finanziamento in una continuità di gestione delle misure fino al 2027 un'evoluzione di questo tipo comporta necessariamente un cambio di approccio passando da una copertura limitata al grande nella copertura che ricomprende le nuove avversità che può arrivare a coprire i danni da fitopatia che può arrivare a coprire lo accionava il responsabile dirigente della regione Emilia-Romagna alla stabilizzazione del reddito è chiaro che la gestione del respiro non può essere considerata un qualcosa di estraneo o di indipendente rispetto a tutte le altre azioni rispetto a tutte le altre attività che vengono fatte per la valorizzazione del prodotto ed ecco quindi che già AMBI coglie nella sostanza con questo convegno questa logica di compartecipazione di utilizzo di obiettivo di sinergia di big data di soluzioni che cerchino per più canali di intervento di portare una protezione effettiva dell'impresa gestione del rischio a 360 gradi significa che deve entrare assolutamente in una logica di risk management completa da parte degli attori responsabili agricoli le associazioni che gestiscono la gestione del rischio risk management significa analizzare il contesto dare delle indicazioni agli agricoltori tali per cui si rischia di ridurre l'effetto del cambiamento climatico la comunità europea punta molto sulla resilienza dell'impresa adattamento al cambiamento climatico delle imprese i danni ma non solo sul mondo agricolo negli ultimi 25 anni dati di anni a dati dei riassicuratori anche nel property quindi in polizze che non c'entrano nulla con l'agricoltura testimoniano un impatto un danno che è aumentato di tre volte rispetto a 25 anni fa quindi un danno che subiamo rispetto alla condizione di coltivare le nostre produzioni a cielo aperto che è un danno impattante un'azione di rich management deve essere un'azione che inizia a ragionare sulle tipicità del territorio per i nuovi territori che vengono destinati all'agricoltura e quindi deve già iniziare dall'aspetto agronomico nel ragionare di donnaità del sito rispetto alla produzione di coltivazione la seconda attività di un'analisi di gestione del rischio deve essere trovare tutte quelle soluzioni che a parità di accadimento il gelo noi non possiamo evitarlo possiamo sicuramente ridurre gli effetti che il gelo può comportare ed ecco multidisciplinarità dell'acqua sistemi di difesa attiva con la terza soluzione che non può essere la soluzione esclusiva la soluzione finanziaria assicurativa quindi trasferire questo rischio a soggetti terzi con un contributo importante che non dimentichiamoci addirittura è stato raddoppiato nella prossima programmazione comunitaria e comunque aumentato nel periodo transitorio l'accordo stato-regioni sulla distribuzione sulla suddivisione sull'attribuzione degli importi di contribuzione comunitaria ha riservato la gestione del rischio per il saldo 2020 21 e 22 758 milioni di euro di contribuzione quindi una contribuzione importante l'obiettivo della gestione del rischio oltre a questa interdisciplinarità a questa coerenza di interventi con altre vuole essere quello di dare una risposta a tutte le imprese del paese abbiamo nell'inizio della relazione abbiamo accennato i dati circa un terzo delle imprese in Italia si assicurano e un terzo di quel terzo si assicura contro le nuove avversità uno degli obiettivi del ministero a partire dal 2023 è quello di riuscire a declinare una misura base evidentemente riuscendo a efficientare i 360 milioni che verranno destinati a questa misura base che possa coinvolgere tutte le imprese questo determinerà una suddivisione del rischio una conoscenza degli strumenti di gestione del rischio a 360 gradi e nel momento in cui la platea degli assicurati sarà una platea tanto importante diventerà automatica quella digitalizzazione quella informatizzazione è quella gestione con big data che stiamo già cercando di perseguire partendo da stesse logiche da stessi canali di popolazione del big data il fascicolo aziendale il dato climatico il dato satellitare che andrà a costituire il bagaglio di valorizzazione del dato oggi il valore del dato non è più il possesso del dato ma è la possibilità di riuscire a scambiarlo con altri soggetti di arricchirlo di informazioni e di trasferirlo in maniera semplice digital e automatica allo stesso agricoltore o a chi fa assistenza consiglio agronomico dal punto di vista produttivo stiamo arrivando a declinare strumenti di questo tipo il 2023 è vicino abbiamo ancora un anno per fare delle verifiche della sperimentazione dell'implementazione l'obiettivo è di arrivare appunto che tutte le imprese italiane strutturate abbiano una possibilità di adesione base per i danni catastrofali quindi che tutte le imprese italiane abbiano una copertura siccità una copertura gelo una copertura alluvione le imprese italiane sviluppano vi do l'ultimo dato poi chiudo sviluppano complessivamente dai 30 ai 35 miliardi di valore delle produzioni il danno medio è un dato che oggi si stima perché nessuno conosce il danno medio da calamità in Italia però si stima che sia fra 1 miliardo e 2 e 1 miliardo e 400 milioni quel che si deve cercare di trovare con efficienza è la risposta più coerente con 360 milioni di disponibilità di risorse pubbliche quindi questi 360 milioni e questo è un dato importante per farvi tutte le analisi di strutturazione della difesa aziendale in difesa attiva in assicurazione lo Stato sta cercando di dare una risposta ma la possibilità è dare una risposta con 360 milioni a un danno medio complessivo nazionale che si stima in circa 1 miliardo 2 1 miliardo 4 e un valore delle produzioni al quale si deve rispondere perché il cambiamento climatico potrebbe anche peggiorare il trend sta andando in peggioramento di certo non in miglioramento sono i 30 35 miliardi di valore delle produzioni agricole presso mercuriale presso in campo medio nazionale questi sono i tre noi stiamo lavorando Snacodi vuole essere il protagonista i territori nella nuova organizzazione di Snacodi sono assoluti protagonisti Roma non è romocentrico Snacodi non vuole essere un'organizzazione che si sviluppa in maniera distinta rispetto al territorio noi stiamo cercando di organizzare il territorio per riuscire in maniera in maniera omogenea di sistema quindi per far massa critica per avere un vantaggio competitivo ad organizzarci a fare gli investimenti nell'infrastruttura tecnologica per poter dialogare con Ambi con l'assistenza agronomica con la filiera produttiva stiamo parlando di stabilizzazione del reddito il nostro interlocutore del dato deve essere la filiera produttiva cooperativa o chi si occupa di mercato non di certo chi si occupa di gestione del rischio che è un di cui rispetto a una misura di questo tipo il territorio torno al ragionamento di Snacodi deve essere assoluto protagonista quindi noi stiamo cercando di valorizzare il condifeso del territorio in una logica di competenza e che abbiano un approccio di gestione in una visione nazionale nell'era dei big data nell'era della digitalizzazione è l'unica soluzione come sistema che possiamo adottare per sviluppare misure efficienti su tutte le imprese a livello nazionale e per essere forti rispetto all'ente pubblico per riuscire a declinare questi 360 milioni misure che siano effettivamente il massimo vantaggio per l'impresa agricola questo è il che stiamo cercando di fare e mi complimento di nuovo per l'iniziativa e per l'approccio che avete rispetto alla protezione delle produzioni grazie bene ci avviamo verso le conclusioni prima di dare la parola all'Albana Gabiti e naturalmente alle conclusioni e saluti di Nicola Dalmonte del Presidente del Canale Emiliano Magnole quando abbiamo pensato questo momento di confronto con Stefano Francia con Claudio Morcelli abbiamo pensato di dover affrontare il tema della gestione anche del rischio quindi una difesa passiva rispetto a quelli che sono il risultato dei cambiamenti climatici perché noi invece come AMBI e come Consorzio di Bonifica abbiamo questo straordinario compito da una parte perché ci riempie di opportunità ma dall'altra parte questo difficile compito nel cercare di gestire e di ridurre l'impatto di questi cambiamenti climatici in modo però attivo è chiaro che quando parlo dei Consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica in tutti gli statuti d'Italia hanno la prima questione hanno difesa dell'alluvione difesa del scollo delle acque difesa del territorio la seconda funzione hanno la distribuzione dell'acqua in rigua sono due temi quindi l'eccesso e il difetto di acqua in particolare che impattano in modo negativo in modo negativo su quelle che sono appunto le produzioni le produzioni agricole noi potevamo evitare di fare questo momento di confronto però non ci piace fare la raccolta delle sfortune fare la raccolta e raccontare solo delle lamentele delle sfortune ma ci piace anche essere propositivi perché noi crediamo e abbiamo il dovere ai nostri agricoltori nuove generazioni anche di agricoltori di dare delle opportunità io stamattina volevo appunto fare questo momento di confronto semplicemente per offrire anche ad Asnacodi un supporto da parte di Ambi da parte dei Consorzio di Bonifica perché è quello che può essere il futuro nella gestione del rischio nel nostro paese per l'ortofrutta avete sentito che noi abbiamo un'eccellenza all'interno del nostro sistema l'eccellenza si chiama Canale Emiliano Romagnolo che è un centro di ricerca che in tempi non sospetti ha studiato alcune cose che oggi vengono buone che oggi sono di attualità e crediamo che questo centro di ricerca possa ancora una volta essere protagonista in qualcosa che possiamo inventarci in qualcosa che possiamo innovare per dare delle soluzioni a questi cambiamenti climatici che a me forse ce lo siamo raccontato per tanto tempo ma lo dico con grande franchezza abbiamo fatto troppo poco perché ci siamo trovati davanti ai fatti che non siamo assolutamente pronti per affrontare quello che è purtroppo lo scenario mondiale se leggete lo scenario mondiale dell'IPCC su quello che sarà l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio voi capite che ci troveremo a delle scadenze dove noi sicuramente come paese non saremo pronti ad affrontarle in modo corretto e soprattutto sicuro per i cittadini e per le imprese agricole noi crediamo di darvi e di offrirvi questa opportunità in diversi modi io credo che il mondo dei consorzi di bonifica vi possa essere di supporto per andare a certificare e per andare a dire alle assicurazioni dove sono quelle aree più o meno rischio noi vi possiamo andare a dire in modo puntuale con la conoscenza attraverso i nostri apparati dei consorzi di bonifica dove abbiamo degli impianti di scolo dove abbiamo la sicurezza idraulica dove le alluvioni possono avere un impatto inferiore rispetto a un territorio dove noi non ci siamo possiamo andarvi a dire e raccontare dove abbiamo una certa disponibilità di acqua rispetto a dove non ce l'abbiamo e quindi possiamo andare a dire le assicurazioni lì possiamo fare un investimento ad un costo assicurando un'impresa oppure assicurando un altro tipo di impresa dall'altra parte non ci siamo possiamo fare purtroppo sappiamo che il rischio è maggiore e quindi dobbiamo valutarlo in modo in modo diverso dall'altra parte io credo che possiamo essere da supporto per tutte quelle cose che ci siano dette rispetto alla difesa attiva rispetto al bando della regione rispetto a tutto quello che può essere in integrazione alla difesa passiva perché quello che è successo in questi anni è chiaro e ci ha detto che nessuno può vincere questa sfida se ragiona a comparti stagni la difesa passiva non è la soluzione totale perché non è la soluzione totale perché non è più appetibile neanche per le assicurazioni diventerà appetibile se integreremo questa difesa passiva con la difesa attiva grazie anche agli impianti di irrigazione piuttosto che agli impianti antribiline piuttosto che tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare guardate che siamo anche qui alle porte di nuove opportunità per il paese l'Europa oggi ci sta dando delle opportunità noi avremo una mole di risorse che qualcuno lo chiama il piano marcia io credo che nel momento in cui arrivano queste risorse sarà molto di più di un piano marcia e il Next Generation Way ci deve fare infrastrutturare il nostro paese anche di fronte a queste sfide qua perché la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica e sociale non si raggiunge con dei convegni con delle parole si raggiunge con dei fatti e io credo che con il nuovo col piano di resilienza dobbiamo centrare l'obiettivo di fare gli investimenti giusti e corretti per accompagnare le imprese i popoli e i nostri territori a quelle che saranno le sfide del futuro allora noi anche su questo stiamo progettando e stiamo presentando e poi lo diamo l'opportunità la diamo al paese una serie di investimenti al Bano per andare a incrementare le infrastrutture irrigue di scolo di sicurezza idraulica che devono essere integrate a quello che voi fate quotidianamente rispetto alla difesa passiva allora io credo che se questo modello noi lo condividiamo con il paese con le istituzioni con le regioni che sono un tassello importante e determinante rispetto a queste scelte va bene io credo che oggi l'ortofrutta non si possa solo guardare alle spalle con dei problemi ma possa guardarsi di fronte con della prospettiva e del futuro diversamente l'obiettivo anche del che si chiama Next Generation Way noi vincoliamo e ipotechiamo il paese a una chiusura che non credo che non se lo possa permettere siamo stati nella storia protagonisti e io credo che dobbiamo come paese essere protagonisti nella rinascita del nuovo modello di sviluppo che l'Europa e il mondo necessariamente dopo questa pandemia dovrà mettere in campo noi come Consorzio di Bonifica ci siamo grazie grazie buongiorno a tutti spero di essere sufficientemente breve anche perché le raccomandazioni di Francesco erano di chiudere per le una quindi siamo già in ritardo quindi sarò sufficientemente spero breve ma le considerazioni che sono venute fuori stamattina sono straordinariamente interessanti ci siamo confrontati magari anche personalmente alcune tante volte con Francesco con Stefano nel doppio ruolo che in particolare di Stefano di essere protagonista sia nel sistema dei Consorzi di Difesa che in quello delle Bonifiche e chiaramente l'elemento centrale che dobbiamo capire è che oggi da una parte in virtù dei cambiamenti climatici che è un dato inetudibile dal quale non possiamo non possiamo che prenderne atto non è che ci sono altre considerazioni fino a qualche anno fa si pensava che era l'espressione così un po' isterica di qualche mondo ambientalista e quant'altro in realtà quello che sta succedendo e soprattutto noi come agricoltori ne stiamo prendendo atto considerate io sono un agricoltore di collina in zona non irrigua non possiamo più piantare culture primaverile quando prima piantavamo regolarmente il mais in asciutta quindi nel giro di 20 anni sono cambiate completamente le condizioni di riferimento come nell'azienda mia nei milioni di aziende italiane sono cambiati i parametri di riferimento per poter gestire l'azienda stessa quindi partendo da questo presupposto diciamo che da una parte siamo andati avanti con la difesa passiva perché i dati sono stati dati l'evoluzione degli ultimi 15 anni in particolare è stata straordinaria siamo passati da un miliardo Andrea diceva sei miliardi ma in realtà siamo arrivati a noi se ci mettiamo dentro anche la zotecnia vegetali zotecnia e strutture a nove miliardi di euro i valori assicurati abbiamo fatto un'esplosione in termini di prestazioni contrattuali delle polizze perché questo è il dato di fatto perché uno degli elementi che oggi per essere realisti perché se no poi ho saputo che in questi giorni c'è stato un bel dibattito anche all'inaugurazione della fiera in alcuni convegni su se lo strumento assicurativo funziona o non funziona però dobbiamo essere anche realistici a parte il fatto che dire noi che funziona che noi siamo i protagonisti è un po' difficile però uno strumento che mediamente insomma porta nelle tasche degli agricoltori al netto del contributo pubblico sappiamo che è un moltiplicatore proprio che arriva agli agricoltori ma se dovessimo togliere anche il contributo pubblico negli ultimi dieci anni è stato pagato sempre di più di quanto gli agricoltori hanno pagato se a questo ci mettiamo che il 70% degli agricoltori non l'hanno pagato perché sono stati rimborsati dallo Stato capite benissimo che hanno pagato mediamente 30 e hanno portato a casa 110 questa è la media degli ultimi dieci anni quindi prima di dire che non funziona facciamo una riflessione la seconda riflessione è che chiaramente uno degli elementi che ha portato e che sta portando a criticità il rapporto col mondo assicurativo è che le prestazioni contrattuali delle polizze sono aumentate in maniera esponenziale lo ricordavamo prima siamo partiti da una polizia monorisco sulla grandine che era fino al 2006 che risarciva soltanto il danno quantitativo dove oggi si risarcisce il danno commerciale ci sono 3, 6, 9 rischi che vengono inseriti all'interno della polizia è chiaro che l'esborso è sempre maggiore i cambiamenti gli eventi sono sempre più severi gli eventi estremi sono sempre più frequenti e sostanzialmente le prestazioni contrattuali sono aumentate il sistema così in una prospettiva di medio termine è difficile sostenerlo perché poi le compagnie sostanzialmente ovviamente sono delle imprese non è che possono operare in perdita per 10 anni senza colpo ferire prima o poi si allontanano dal mercato ma sta alla nostra intelligenza rendere ritornare a far sì che il mercato sia tonico e infatti stiamo integrando e qui ancora parlo di difesa passiva con ancora tanta innovazione perché il primo elemento da inserire è innovazione non è che gli obiettivi che abbiamo raggiunti in termini di contenuti di polizze sono degli obiettivi che non si possono superare si possono superare benissimo perché oggi possiamo parlare di polizze tecnologiche oggi possiamo parlare di polizze index che hanno l'obiettivo di fare che cosa non di andare a rimuovere chi già ha delle strutturazioni che funzionano bene ma di allargare la platea assicurativa perché il primo elemento il primo elemento per rendere accessibili gli strumenti assicurativi al costo giusto soprattutto per chi ha bisogno è che si deve assicurare sempre di più persone e imprenditori nel nostro paese più si allarga la platea assicurativa e più il costo diventa accessibile più c'è una spalmatura del rischio più c'è una prospettiva del settore considerate che i 9 miliardi che assicuriamo oggi hanno un tasso medio che è più basso di quando c'era la polizza monorisco sulla granina proprio in virtù di questo allargamento della platea che ci è stata sostanzialmente negli ultimi 15 anni quindi il primo elemento è questo il secondo elemento su cui dobbiamo lavorare è implementare strumenti che vanno a corroborare quella che è l'azione diciamo assicurativa e mi riferisco ai fondi mutualistici sia per quelle prestazioni contrattuali che oggi non è possibile portare a casa sostanzialmente dalla copertura assicurativa quindi fondi che vanno a risuacire che ne so le fidopatie piuttosto che alcuni eventi che oggi non sono ricompresi nelle polizze e soprattutto stiamo lavorando anche sui fondi per la stabilizzazione del reddito l'accennava il direttore e quello è il momento in cui devi entrare in contatto con tutta la filiera in particolare stiamo lavorando con le organizzazioni di prodotto anche in Emilia Romagna siamo partiti con un fondo diciamo abbiamo già chiesto il riconoscimento al Ministero giusto non dico stupideggi al 30 di giugno stiamo presentando ora tutta la documentazione accessoria e stiamo partendo con un fondo di stabilizzazione sulle barbabietole da zucchero ci sono già in Italia dieci fondi operativi riconosciuti al Ministero sostanzialmente con contributo pubblico più alcuni fondi che non soffruiscono del contributo pubblico è qualcosa che si può fare è qualcosa che è uno strumento aggiuntivo agli strumenti tradizionali che abbiamo di gestione del rischio ma che può dare risposta importante sostanzialmente agli agricoltori detto ciò chiaramente la sfida che dobbiamo portare avanti è come si diceva mantenere anche questo filone diciamo comunitario di finanziamento perché prima quando la dottoressa diceva con gli aiuti ex post sostanzialmente abbiamo preso il 10% un po' meno del 10% se non ho capito male dei danni che abbiamo avuto l'anno precedente in realtà cioè questo è la costarazione che era venuta fuori già nel 2007 e 2008 dove il risarcimento medio degli ultimi dieci anni era stato del 2-5% del danno effettivamente censito sostanzialmente con le dichiarazioni di stato di calamità da parte degli agricoltori perché per un paese come il nostro ma nessun paese perché anche altri paesi come la Spagna che non hanno mai avuto accesso alle risorse comunitarie per copertura assicurativa si trovano oggi che vengono finanziati al 30% del costo delle assicurazioni con delle limitazioni importantissime quindi l'unico finore per poter finanziare il comparto assicurativo o dei fondi mutualistici è quello comunitario è una scelta che abbiamo fatto nel 2010 molto complessa anche molto coraggiosa ci ha dato ragione perché abbiamo fatto cambiare opinione alla Commissione Europea che non voleva assolutamente finanziare strumenti di questo tipo nel 2014 è diventato in qualche maniera uno dei sei punti centrali della programmazione 2014-2020 e è stata riconfermata ormai nelle carte ufficiali della programmazione 2023-2027 è talmente riconfermata che per quanto riguarda il budget del nostro Paese saranno pro anno raddoppiare le risorse di quelle che erano state messe a disposizione nel periodo 2014-2020 quindi l'obiettivo questo lo abbiamo centrato quindi quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi quello che voglio dire è che ce lo dobbiamo costruire gelosamente e dobbiamo solo lavorare per allargare e per migliorare non per ricostruire un sistema alternativo diverso a quello che abbiamo perché poi a smontare si fa facile ma a riprendere un percorso è sempre difficile soprattutto in virtù di un fatto perché anche quando si fanno dei proclami così magari in qualche dibattito pubblico è facile farlo che al mondo non è che c'è qualche esempio che sta più avanzato del sistema che c'è in Italia di gestione del rischio perché siamo andati a vedere di persona dagli Stati Uniti alla Russia sostanzialmente come funzionano questi strumenti abbiamo visto tutte le possibilità che si possono esplodare in campo ma più avanti di come siamo arrivati noi in Italia cioè un sistema compiuto di polizze un sistema di fondi a corroborare le polizze non esiste nessun altro paese al mondo non è che possiamo andare a imitare o a cercare delle soluzioni di qualcuno che sta più avanti di noi lo stesso sistema americano è molto meno virtuoso per chi diciamo si assicura oggi in Italia quello americano rispetto a quello italiano e quindi purtroppo tutto il percorso che abbiamo davanti tutte le iniziative dovremmo prendere ce le dobbiamo costruire con le nostre intelligenze con le nostre capacità con la tecnica e con la ricerca perché questo è l'elemento forte e per questo che stiamo lavorando molto anche a livello di regioni sostanzialmente sul discorso di utilizzare in particolare le misure 16 quindi Asnacodi è partner per riprendere quello che diceva Andrea è partner molto forte insieme ai consorsi territoriali per studiare l'innovazione in questo settore studiarla da tutti i punti di vista e vi assicuro che c'è un mondo enorme da scoprire e io sono d'accordo con quello che diceva Francesco col PNRR noi andremo a riscrivere la storia del nostro paese ma in maniera sostanziale e quindi dobbiamo essere abili a utilizzare bene anche queste risorse e nell'utilizzazione di queste risorse credo che dovremmo centrare il nostro obiettivo in quella che è stata un po' l'iniziativa di questa mattina che Francesco ha voluto organizzare insieme a noi che è quella di integrarsi perché ovviamente ne avete parlato molto bene prima adesso mi sono un po' più riconcentrato sugli strumenti di gestione passiva il futuro sarà che oltre a migliorare i contenuti delle polizze in polizze tecnologiche e polizze index oltre a costituire fondi mutualistici a corroborare le prestazioni contrattuali delle polizze non ci sarà sostenibilità oltre a fare a prendere questo 3% dal primo pilastro per far sì che tutti gli agricoltori italiani abbiano almeno una copertura nella gestione del rischio catastrofale che questo credo è un altro passo straordinario che abbiamo fatto e diventa il presupposto per tutti quegli agricoltori che non si sono mai assicurati fino ad oggi di stipulare anche questi strumenti più avanzati che è la polizza che è il fondo mutualistico e quant'altro accanto a questo però dobbiamo mettere in campo tutta una serie di strumentazioni di difesa attiva e questo sarà un lavoro straordinario da fare sia col PNRR e sia con i nuovi piani di sviluppo rurale perché nella nuova programmazione per certi versi questo sarà un po' semplificato dal fatto che sarà nazionale la programmazione non più singole regioni non è che gli obiettivi possono andare da una parte e dall'altra fino ad oggi nessun PSR se non un paio regionali mettevano tra criteri di priorità nella segnazione del punteggio il fatto ad esempio che per chi si assicura c'ha una garanzia in più di portare avanti l'investimento e di portarlo a un buon fine paradossalmente io se fossi diciamo un decisore regionale penso che anche chi soffruisce di misure agroambientali e quant'altro dovrebbe tra virgolette avere uno pseudo obbligo o un punteggio aggiuntivo se si tutela nella gestione del rischio per portare a termine le produzioni perché quello è un obiettivo ambientale ma se poi le produzioni non arrivano a termine o salta all'azienda anche l'obiettivo che era fissato nelle misure agroambientali viene a saltare sostanzialmente quindi noi dovremmo coordinare queste azioni e dovremmo coordinarle in maniera tale che dobbiamo intervenire per le reti antigrandine dove grandina dappertutto perché è impossibile pagare se in qualche territorio negli ultimi dieci anni ha sempre grandinato in quel comune in quella frazione non è che si può gestire con uno strumento assicurativo perché poi lo paghiamo tutti quanti non è che lo paga soltanto quello che ha il sinistro tutti gli anni quello va a ricadere sul tutto il sistema e poi lo rende incompatibile con un costo giusto per tutti gli altri se in qualche territorio come sta succedendo già da tutti gli anni dovremmo capire tra antibrina tra coperture ieri sera abbiamo fatto un approfondimento ci sono adesso più di qualche soluzione che va sostanzialmente in questa direzione dovremmo stamattina vedevo anche il riferimento a questi bruciatori e quant'altro dovremmo mettere in campo secondo i territori secondo la tipologia dell'azienda tutto quello che è possibile mettere in campo se in collina asciutto come nel mio caso tutti gli anni ormai abbiamo siccità o abbiamo i laghetti collinari per poter irrigare oppure certe culture non le possiamo piantare più che è quello che sostanzialmente sta succedendo e quindi questa sfida di mettere in campo difesa passiva in una sinergia però totale con la difesa attiva credo che è il lavoro che dobbiamo fare per il futuro lavoro che non è che dobbiamo farlo come se stiamo parlare di qualcosa che vediamo lontano è il lavoro che già stiamo facendo in questi ultimi anni oggi anche questa iniziativa ne è la conferma di una simbiosi e di una voglia di non solo di scambiare esperienze ma di portare a casa i risultati per le nostre imprese perché qui tutti noi stiamo a rappresentare le imprese non è che stiamo a fare degli obiettivi personali o dei capricci per dire meglio strumento assicurativo piuttosto che una rete piuttosto che un impianto antibrina piuttosto che un'altra cosa quindi concludo perché credo di aver preso anche troppo spazio quello che voglio però trasferire è che c'è la forza l'energia l'entusiasmo non per essere passivi rispetto anche alle difficoltà siamo un McFruit lo dicevamo forse uno delle campagne delle annate peggiori che ci potevano essere ma ci stiamo attrezzando per gestire al meglio tutto quello che è gestibile questo è il messaggio che voglio lanciare ci saremo come consorzi di difesa ci saremo insieme con ambi ci saremo con le organizzazioni professionali e su questa sarà la nostra direttrice di lavoro e di azione per l'immediato e per il prossimo futuro grazie e buona giornata a tutti e buona fiera soprattutto allora in questo caso così mi troverei di fronte a un bivio o apriamo un altro convegno per l'integrazione tra gli strumenti tra il PSR e i nuovi strumenti dove rimettere in moto dibattito con la legione per integrare meglio o far fare le considerazioni conclusive al Presidente Dal Monte mi tocca la seconda per ragione di tempo sostanzialmente grazie a tutti grazie vista anche l'ora e visto anche chi mi ha preceduto che mi sembra che abbia spesso tantissimi concetti una voglia importante ecco di salvare questa filiera voglio concludere brevemente io credo che sia emerso in maniera molto forte e soprattutto con una volontà importante di fare sistema e soprattutto di voler salvare questo sistema della filiera agroalimentare quindi credo che il ruolo che giochiamo stiamo giocando in maniera fondamentale col sistema dei consorsi bonifica col sistema dei consorsi di difesa e soprattutto con la nostra regione in particolar modo che siamo in Emilia Romagna oggi sono stati presentati quelli che sono stati due bandi che credo che nessuna regione sia riuscita a mettere in campo in un solo anno noi dobbiamo assolutamente salvare il nostro prodotto per non perdere la nostra filiera ovviamente i sistemi messi in campo sono stati tanti io credo che sia stata ribadita la volontà scusate se mi ripeto di fare sistema e questo penso che sia l'unico modo per poter ritrovarci ancora nei prossimi anni a parlare del mondo dell'ortofrutta in particolar modo dell'ortofrutta romagnola e italiana io concludo qui perché abbiamo già sforato per quelle questioni di tempo un orario anche che non era previsto vi ringrazio nuovamente ringrazio ambi ringrazio il presidente Agabiti per il sistema di Asnakodi e ringrazio la regione perché credo sia stata una presenza molto importante con un'espressione forte di quanto sta facendo noi siamo a disposizione di tutti ovviamente che qui parla a nome del CER credo che abbiamo anche oggi messo in evidenza quanto abbiamo fatto e quanto siamo soprattutto disponibili a fare in futuro grazie ancora un buon proseguimento a tutti e un buon lavoro a tutti grazie